Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso nostrano per la vostra gioia. Prometto che proverò ad infilare un caso italiano tra un video e un altro d'ora in poi. Questo caso in particolare si dice sia la fotocopia di un caso avvenuto in America, di cui già vi ho fatto il video, ossia il caso di Chris Watts. In effetti vi sono molte similitudini, la differenza è che questa storia non è assolutamente ambientata in Colorado, ma a Motta Visconti, un comune della città di Milano, in Lombardia. La protagonista di questa storia è una famiglia, una di quelle classiche famiglie che sembrano perfette, ma nascondono tanti problemi. In questo caso possiamo dire che Carlo Lissi, uno dei protagonisti di questa vicenda, abbia finto di essere un marito e un padre modello. In realtà però Carlo dà la vita, vuole altro. E per ritrovare di nuovo quella tanta desiderata libertà, commette un gesto davvero tremendo e tragico. La nostra storia inizia nel teatro dell'oratorio di Motta Visconti, dove Cristina Omez, la seconda protagonista della nostra storia, è impegnata nella messa in scena di uno spettacolo teatrale. Cristina di anni ne ha 30 e fa l'assicuratrice. Proprio in quel teatro, per quello spettacolo, lavora anche un ragazzo di nome Carlo Lissi, come ha detto alle luci. Ed è qui che i due iniziano a scambiarsi qualche occhiatina interessata. Cristina è chiaramente attratta da Carlo, ma è più grande. E infatti lui ha solo 23 anni e avere l'attenzione di una donna più grande di lui lo fa sentire in qualche modo importante. I due iniziano a corteggiarsi e Cristina è felice, lo dice anche alle sue amiche. Inizialmente si confida con la sua amica Laura, dicendole che sì, in effetti questo ragazzo le piace molto, ma è in difficoltà perché è parecchio più giovane di lei. Ma l'amica le dice, ma provaci ugualmente e buttati, ma poi cosa vuoi che siano al giorno d'oggi sette anni di differenza? Cristina quindi si butta e la cosa va a buon fine. Infatti anche un'altra sua amica, Michela, dice chiaramente che la ragazza è molto felice. In quel ragazzo Cristina trova tutto ciò che desidera. I due sembra che si siano trovati, sembrano destinati a stare insieme. Sono una coppia davvero molto affiatata. Però c'è qualcuno nella vita di Cristina che non vede di buon occhio la sua nuova fiamma. E vi sto parlando dei suoi genitori. Quando Cristina si confida con sua madre e suo padre, dice loro che ha trovato un ragazzo che le piace. Però è un po' più giovane di lei. Inizialmente Cristina non dice esattamente la differenza d'età che c'è tra lei e Carlo. Però poi alla fine lo deve dire per forza. E quando suo padre viene a scoprire quanti anni di differenza ci sono tra i due, gli mostra un po' di perplessità. Dice a Cristina che forse effettivamente la differenza d'età è davvero davvero troppa. Carlo è un ragazzo. E forse con i suoi 23 anni non è adatto a Cristina. Che di anni ne ha 30. Ed è più matura di lui. Cristina però insiste, dice suo padre che il suo Carlo in realtà è un ragazzo tranquillo, senza grilli per la testa. I genitori di Cristina non possono far altro che accettare la situazione. I suoi genitori alla fine le dicono che se lei è felice e va d'accordo con Carlo, per loro non ci sono problemi. Cristina e Carlo quindi si fidanzano ufficialmente. Ma prima di continuare tocca fare un passettino indietro. Andiamo a scoprire chi era Cristina prima di conoscere Carlo Lissi. Ebbene, Cristina è sempre stata una ragazza molto decisa. Una con le idee chiare e un carattere abbastanza peperino. Nasce a Favia il 16 novembre del 1965. È figlia unica ed ha un carattere parecchio vivace. Sua madre la descrive come una peste quando era piccola. In quanto Cristina è una bambina non solo molto vivace, ma fatica anche a dormire. Non dorme mai e quindi fa passare ai suoi genitori delle nottate da incubo. E questa cosa mi ha un po' emozionata. Perché si avvicina molto alla mia di storia. Anche io quando ero piccola non dormivo mai e facevo impazzire i miei genitori. Cristina è una bambina un po' dispettosa. Un po' come tutte le femminucce insomma. Ed è estremamente allegra. Cresce quindi in una famiglia serena e si lega particolarmente al suo papà. E anche in questo caso onestamente mi ci trovo dentro al 100%. Lo dico tranquillamente. Senza mio padre io oggi non saprei che fare. E non si tratta solo dell'avere l'appoggio di un genitore. No, no, è molto di più. E anche Cristina stravede per suo padre. Lui, il suo papà. Se deve ad esempio confidare qualcosa quando è piccolina, prima lo confida a suo padre, poi a sua madre. La cosa comunque è reciproca. Perché anche il padre di Cristina è molto affezionato a lei. Insomma, il loro è un rapporto davvero davvero speciale. Crescendo Cristina viaggia molto con le sue amiche Laura e Michela. E inoltre inizia anche a fare volontariato. Cristina è una ragazza che si dà da fare. È volontaria della Croce Rossa. E per di più, lavorando in un'assicurazione proprio a Motta Visconti, è conosciuto da tutti. E ovviamente tutti le vogliono bene. Quindi, a vent'anni Cristina trova quel lavoro in quell'assicurazione a Motta Visconti. Ma non lascia comunque da parte la sua grande passione, ossia il teatro. A questo punto tocca fare conoscenza di un altro protagonista della nostra storia. Ossia Carlo Lissi. Chi è Carlo Lissi prima di conoscere Cristina in quel teatro? Carlo nasce il 26 settembre del 1982, a Casorato I, in provincia di Pavia. Suo padre fa il piastrellista, mentre sua madre è un'impiegata. Il padre di Carlo ha un carattere molto forte e il ragazzo è molto intimorito da lui. Carlo però non ha dentro di sé moti di ribellione, non ha voglia di ribellarsi a suo padre, che è molto molto severo. Quindi non si ribella. Cerca invece di omologarsi alle regole e alle aspettative che le persone ripongono su di lui. Sempre attento ad evitare polemiche e conflitti. Cosa significa ciò? Significa che Carlo Lissi è un uomo senza spina dorsale. Non prende decisioni, bensì si allinea alle idee degli altri. La stessa amica di Cristina, Laura, sostiene di non averlo mai sentito esprimere una sua opinione. Mai. Carlo non parla, non dice niente, si tiene tutto quanto dentro. Carlo vuole, pretende di dare un'immagine di sé sempre positiva. Inoltre, per sé coltiva un'idea di perfezione. Infatti è un ragazzo molto ordinato, sempre pulito, veste abiti firmati. Insomma, Carlo è un ragazzo che tiene molto al suo aspetto. All'età di 21 anni inizia a lavorare ad Arsago, alla multinazionale Wolters Kluwer, come consulente informatico. Quindi Carlo, quando conosce Cristina, è già indipendente economicamente. Pochi anni dopo le strade di Carlo e di Cristina si incrociano. I due iniziano a stare insieme ufficialmente, quindi Cristina conosce la famiglia di Carlo e viceversa. Il padre di Carlo è felicissimo per suo figlio, sostiene la coppia. Così, quando i due esprimono il desiderio di andare a convivere, è lui che li aiuta a trovare una casa. Cristina però ai suoi genitori svela questo segreto in un secondo momento. Suo padre, di nuovo, non si dimostra entusiasta per la sua scelta. Ma alla fine, quella è la vita di sua figlia e anche se suo padre le avesse detto di no, lei se ne sarebbe comunque potuta andare tranquillamente, essendo maggiore a lei da un bel pezzo. Cristina non vede l'ora di andare a convivere con Carlo. Vuole condividere con lui i momenti quotidiani, portare la loro relazione ad un livello successivo, più importante. Ma ben presto Carlo si rivela totalmente preso da un'altra persona, se stesso. Cristina però non se ne rende conto, è innamorata persa e si dedica a lui con tutte le sue forze. Non si accorge però che nella coppia quella dare l'attenzione a lei, è lei che si dedica a Carlo, ma non avviene il contrario. E poi, ecco che viene fuori il vero Carlo. È sufficiente percorrere quei pochi chilometri che separano Motta Visconti da Sago, per andare nell'ufficio in cui lavora. Carlo divide, in modo molto importante, le sue due vite, ossia quella privata e quella professionale. E non lo fa per caso. Ad Assago, in ufficio, Carlo è un vero e proprio seduttore, ci prova con tutte, soprattutto con donne più grandi di lui. È chiaro che Carlo sia bravissimo a fingere, è talmente tanto bravo a fare il fidanzato modello, che Cristina non si accorge assolutamente di nulla. Lei lo ama da morire e infatti alla fine è proprio lei a chiedere a lui di sposarla. Carlo le risponde con, beh, se hai qualche desiderio. E questa è una cavolo di risposta a metà, quindi non è né un sì né un no. È una risposta che suona più come un, ok, se proprio vuoi, beh, ti accontento. Immagino che Cristina si sia resa conto di questa cosa. Però, in ugual modo, vorrebbe una famiglia con lui. Vuole sposarlo, vuole fare dei figli con lui. E forse in questo caso Cristina, complice l'età, non ha voluto approfondire troppo queste stranezze di Carlo. Forse ha lasciato correre facendo finta di niente. Anche se dei segnali ci sono stati. Sicuramente ad un occhio esterno sono più visibili. Oggi, col seno di poi, inoltre, sono ancora più visibili questi segnali. Ma nessuno di noi, nessuno, ha vissuto ciò che ha vissuto Cristina. Su questo ovviamente non c'è dubbio. Ma ora passiamo un attimo a Carlo. Carlo, avete presente quello che non aveva grilli per la testa? Ebbene, ora di colpo, vuole andare di sabato sera in discoteca con gli amici. Perché lui è giovane. Vuole divertirsi. Quindi arriva un sabato preciso in cui Carlo va a ballare in discoteca. Mentre Cristina fa la volontaria alla croce rossa. E già qui notiamo una differenza sostanziale tra ciò che fa Cristina e ciò di cui si occupa Cristina e ciò che invece preferisce far Carlo. Cristina ama far bene al prossimo. Carlo ama se stesso. Vuole divertirsi e farsi cavoli suoi con i suoi amici. Ebbene, Carlo quel sabato sera, ma non solo quel sabato sera in generale, tutti i sabati in cui va in disco, ma quel sabato sera in particolare, inizia a macchinare. Si guarda intorno e vede sempre più tipe che lo guardano. Si rende conto che è al centro dell'attenzione. Le donne si girano, lo osservano, perché effettivamente è pure un bel ragazzo. Così Carlo si trova davanti tutte le possibilità che il matrimonio gli avrebbe negato. Arriva la mattina dopo e durante colazione Carlo svela a Cristina che non la vuole più sposare. Cristina cade giù dal pero, ci rimane malissimo e di conseguenza scatta e gli urla addosso. Gli chiede spiegazioni e gli urla come puoi dirmi una cosa del genere. Mentre lei è lì, disperata che gli urla addosso, Carlo fa un piccolo sospiro tipo poi allunga la mano per prendere due biscotti e mangiarseli. Cristina vedendo questa scena si incazza ancora di più. E gli dice, ma che cazzo ti metti a mangiare? Parlami, dimmi, che succede? Qual è il problema? Come puoi dirmi una cosa del genere adesso quando abbiamo già prenotato il ristorante? Abbiamo già invitato gli ospiti? Ho già prenotato il mio vestito da sposa? Il problema è proprio questo. Carlo non parla, non spiccica una parola. Abbassa la testa e aspetta fino a quando Cristina non se ne va di casa sbattendo la porta dicendogli che è uno stronzo. Giustamente, non ha spiccicato mezza parola a parte. Oh, Cristina, mi sa che non ti voglio più sposare. Punto. Spiegazioni? Nessuna. A questo punto sembra davvero tutto finito. Cristina torna dai suoi genitori e dice che lui non la vuole più sposare, non la vuole più. E a quel punto sua madre la guarda e gli dice, Cristina, con tutti gli uomini che ci sono in giro, vuoi che non ne trovi un altro migliore? Ma tranquilla. Il punto è che questa situazione dura due giorni. Due giorni in cui Carlo, pensa, rientra nel suo personaggio da fidanzato modello, torna da Cristina e le dice che ha straparlato, ha detto una cavolata. Cristina ovviamente le chiede spiegazioni, dice, ma scusami, va bene che hai straparlato, però non è che dall'oggi a domani arrivi e dici, guarda, non te voglio più sposare. Lui le risponde dicendole, E sai, sono uscito con i miei amici, mi hanno messo un po' delle idee strame in testa e, insomma, ho straparlato. Di nuovo, questo per quanto mi riguarda, è un segnale grosso quanto una casa. Insomma, se al tuo fidanzato gli basta una sera in discoteca, con i suoi amici per partire di testa, Forse è il caso di rivedere il rapporto e cercare di capire quanto Carlo voglia impegnarsi in una relazione seria, ma Cristina anche in questo caso accetta. Accetta in silenzio e torna da lui. Lui, che finalmente la rivuole ancora, vuole sposarla davvero. Arriva il primo settembre del 2007, quando Carlo e Cristina si sposano nella chiesa di Mottavisconti. Cristina finalmente realizza il suo sogno e i primi anni del matrimonio sono tutti dedicati alla prima genita, Giulia. La vita scorre così per cinque anni. Sembra una vita tranquilla, serena, normale. Carlo, d'altra parte, ha creato per sé una storia che non gli appartiene. E, come un attore, recita meticoloso. Per farlo ha indossato una maschera. E sono anni ormai che sta con questa maschera addosso. Vivendo una vita che non vuole, fingendo che tutto vada per il meglio. La vita che Carlo ha già ben diviso prima del matrimonio diventa ancora più importante. Perché a questo punto l'uomo non si limita a fare un po' il cascamorto con le colleghe. No, tradisce sua moglie con le sue colleghe. Però appena qualche collega per l'appunto si prende e chiede a Carlo qualcosa in più, Carlo fugge e cerca un'altra donna con cui rincominciare il suo gioco da capo. Intanto nella vita di Cristina arriva un'altra gravidanza e nell'autunno del 2013 mette al mondo Gabriele. Carlo, come un perfetto attore, è un padre presente. Gioca con i figli. Però la madre di Cristina sostiene di non averlo mai visto dare neanche un solo bacio ai suoi figli. Quindi diciamo che Carlo continua ad avere dei tratti caratteriali abbastanza particolari, diciamo così. Nel frattempo in ufficio arriva una nuova collega. Si chiama Maria. Ed immediatamente attira l'attenzione di Carlo. Lei però a noi li dà corda. Maria è la prima persona che rifiuta categoricamente Carlo. Gli dice che non è interessata a lui prima di tutto perché ha moglie e però le ha seguito. Ma soprattutto Maria dice a Carlo che è fidanzata. Si è messa a convivere da poco con il suo fidanzato a Milano e non ha alcuna intenzione di tradirlo, il suo fidanzato. Carlo quindi vive un rifiuto e questo rifiuto probabilmente scatena la sua furia. In lui è presente una doppia frustrazione perché in parte non riesce ad accettare il rifiuto della nuova collega. Ma dall'altra non riesce neanche ad affrontare Cristina per chiedere il divorzio. Nel frattempo Carlo a casa continua a recitare quella vita, quella che non vuole. In quel periodo scopriranno poi successivamente gli inquirenti. Carlo fa due ricerche su Google. Una per informarsi sul divorzio breve. L'altra su una rapina con un coltello in una villa di Motta Visconti avvenuta un anno prima. La ricerca della rapina, di nuovo, è un enorme campanello d'allarme. Però Carlo successivamente su Google continua a digitare sempre divorzio, divorzio breve, come divorziare in fretta, cose del genere. Il punto è che Carlo fa queste grandi ricerche su Google ma sua moglie non dice assolutamente nulla. Anche se poi dopo, successivamente, ha ammesso che effettivamente lui a sua moglie le ha parlato. E lei gli ha detto che è un uomo cattivo perché avrebbe distrutto la famiglia se avesse voluto il divorzio. Non so esattamente quale sia la verità però a quanto ho capito Carlo non ha detto nulla a Cristina sul fatto del divorzio. Nulla. Poi arriva un giorno e quel giorno purtroppo è molto molto tragico. Stiamo parlando di sabato 14 giugno 2014 e Carlo ha deciso quella sera farà fuori la sua famiglia. Come vi ho già detto il 14 giugno è un sabato quindi la coppia fa anche dei giri a Motta Visconti. Portano i bambini al parco e poi vanno a fare la spesa. Più persone li incrociano e non hanno alcun sospetto, sembra che tutto vada per il meglio. Quella dei Lissi è una famiglia felice o almeno così sembra. Arriva la fine della giornata, Cristina prepara la cena mentre Carlo ha in programma di andare a vedere i mondiali a casa di alcuni suoi amici. Ecco perché Carlo sceglie proprio quella sera per quel terribile gesto. Può costruirsi un alibi, può essere visto in giro da altre persone. Inoltre l'orario della partita è compatibile con l'orario di una possibile rapina. Quel 14 giugno alle 10, 10 e mezza di sera circa, Cristina chiama sua madre e le chiede in prestito l'aspirapolvere perché il suo le si è rotto. Sua madre a quel punto le dice ma Cristina devo venirtelo a portare adesso, sono le 10 e mezza, piove. Cristina quindi dice no mamma tranquilla, domani non c'è problema. Sua madre quindi le dice che va bene e le ultime parole che sente da sua figlia sono buonanotte mamma, a domani. La sera di sabato per Cristina tutto sommato è una serata tranquilla, la passa in pantofole a sistemare la casa, gioca un po' con i suoi figli, mentre Carlo guarda la televisione. Poi Carlo e Cristina mettono insieme i bambini a letto, a questo punto i due dopo aver messo i bambini a letto scendono in soggiorno e hanno un rapporto intimo sul divano del salotto. Poi ad un certo punto Carlo si alza dal divano, Cristina però è lì tranquilla che si guarda la televisione quindi non controlla cosa sta facendo Carlo. Lui e me però si sta dirigendo in cucina per afferrare un coltello. Carlo afferra quel coltello, si dirige verso Cristina e alle spalle la colpisce con una coltellata al collo. Purtroppo quell'unica coltellata non basta per farla fuori del tutto e infatti Carlo deve colpire più volte. Carlo poi si dirige verso la camera dei suoi figli e fa con loro la stessa cosa, ossia... Carlo quindi ha spazzato via sua moglie e i suoi figli dalla sua vita e non ci ha neanche provato a chiedere seriamente il divorzio. Ma soprattutto non gli sarebbe bastato perché come ammetterà poi in seguito i figli sarebbero rimasti. Parole sue eh. Anche in questo caso io non riesco a capacitarmi di come questo uomo abbia agito in un modo tanto freddo e calcolatore. Oltretutto stiamo parlando di un padre che agisce in un modo così freddo anche nei confronti dei suoi figli. Comunque cosa fa quindi Carlo? Esce dalla camera dei suoi figli, scende in salotto e inizia a mettere la casa in soquadro. Insomma tenta di simulare una rapina mettendo in disordine alcune cose. Ovviamente col fine di crearsi un'alibi ben solida. Una volta finito di mettere a soquadro la casa Carlo bello tranquillo va a farsi una doccia, si cambia e poi va dai suoi amici proprio per seguire i mondiali. Mentre dai suoi amici a seguire la partita manda anche un messaggio a Cristina chiedendole se per caso stia seguendo anche lei la partita. Ma Carlo sa benissimo che Cristina non c'è più, ci ha pensato lui a farla fuori. In questo caso però c'è da dire che Carlo non ha agito per caso. Ha provato a non farsi beccare, ripeto, ci ha provato. L'uomo infatti costruisce i suoi alibi su diversi elementi. Prima di far fuori la moglie ha un rapporto intimo con lei. Sceglie di uscire per andare a vedere la partita proprio perché l'orario è compatibile con una possibile rapina. E infatti mette a soquadro la casa proprio col fine di simularla una rapina. E questo è l'indice di premeditazione. Nel frattempo c'è da dire anche che i suoi amici, quelli da cui Carlo è andato a vedere la partita, non hanno sospettato nulla, non hanno visto nulla di strano in Carlo. Era tranquillissimo, festeggiava, beveva, però la partita a un certo punto termina e quindi Carlo deve tornare a casa. Sono circa le due di notte. Ed ora è il momento di mettere in scena il suo piano. Nella prima confessione Carlo sostiene di essere rientrato in casa, poi si è tolto le scarpe mettendosi le ciabatte. E poi lì, sempre in mezzo al salotto, al buio, sostiene di essersi anche tolto jeans e maglietta. Solo a quel punto ha acceso la luce e ha trovato sua moglie per terra. Sempre secondo il suo racconto si è avvicinato alla moglie, le ha toccato il capo, si è reso conto che era senza vita. Quindi è uscito da casa, ancora solo in mutande, per urlare aiuto. Poi è rientrato in casa e ha chiamato un'ambulanza. Oltre a ciò Carlo chiama anche suo padre. Il padre di Carlo si presenta a casa del figlio ed è proprio da lì che Carlo inizia a costruire il suo castello di bugie. Il padre lo abbraccia, cerca di consolarlo. Carlo sembra preoccupato, più che disperato. Agitato. Allertati dal 118 arrivano anche i carabinieri, che iniziano a guardarsi intorno e si rendono conto che c'è qualcosa che non va. Carlo Lissi e gli inquirenti appare immediatamente come un attore che sta cercando di mettere in scena il suo spettacolino. Il suo atteggiamento è strano perché si dispera, sembra nervoso, si morde le mani. Con una scusa quindi i due poliziotti lo portano nell'ambulanza. Gli inquirenti sostengono che appena salgono sull'ambulanza per fare le prime domande a Carlo Lissi, notano che trema, notano che è agitato e notano anche che prova a piangere con tutte le sue forze, senza riuscirci. Quindi simula un pianto, ma dagli suoi occhi non scende una sola lacrima. Poi ecco che arriva anche la madre di Carlo, che sta per qualche minuto con il figlio. Però c'è anche un'altra cosa che non torna, perché quando arriva il medico legale, tutti si rendono conto che Carlo Lissi ha delle ferite da taglio sulle mani. I Riss, appena arrivano sulla scena del crimine, notano delle anomalie per quanto riguarda la teoria della rapina finita male. Perché? Ebbene, perché quello che si presenta nella villetta di Motta Visconti è un disordine atipico. Alcuni cassetti sono stati aperti e rovistati, altri no. Il portafoglio della vittima, Cristina, è sul tavolo in cucina aperto con 50 euro in bella vista, che però non sono stati toccati. Ma chi è il rapinatore che se trova una banconota non la prende? Qui qualcosa non torna. Per di più, mancano segni di effrazione, non ci sono né sulle porte né sulle finestre. Gli inquirenti notano anche la cassaforte aperta, ma non c'è nessun segno di forzatura, niente. La recita di Carlo, quindi, presenta qualche falla e non convince del tutto gli inquirenti, che lo conducono in caserma con la scusa di ulteriori accertamenti. Mentre aspetta, Carlo verso l'ora di pranzo, sorridendo, chiede se può avere una pizza o una birra. Insomma, un uomo, un padre di famiglia che ha perso moglie e figli in una botta sola, non pensa a mangiare la pizza. In ogni caso, in quel momento, gli inquirenti lo accontentano perché Carlo è solo una persona al corrente dei fatti. Passa però qualche giorno e Carlo lì si diventa, da persona informata sui fatti, ad indagato. Viene convocato dalla polizia più volte, lo interrogano praticamente per tutto il giorno. E in un giorno preciso, al termine di una giornata precisa, è evidente che Carlo sia stremato. Non ha più forze, non riesce più a reggere il suo fardello, quindi confessa. Il 28 febbraio del 2015, in sede di interrogatorio, Carlo spiega i motivi del suo insano gesto dicendo queste esatte parole. Avevo tanti pensieri, ma il mio fine era lei. Avrei sopportato di stare da solo per qualche tempo con la prospettiva di attenderla. Pensavo a lei in ogni momento libero. Non vi siete mai innamorati alla follia? In effetti mi consideravo un buon papà, ma un pessimo marito. Prima di conoscere Maria, ho avuto anche altre due esperienze extra coniugali con due colleghe. Parlando invece di Cristina, sua moglie Carlo dice, senza dubbio in casa portava i pantaloni. Io all'inizio mi sentivo figo a stare con una ragazza più grande di me, ma poi mi sono reso conto che non mi faceva mancare niente, ma da parte sua non c'era un coinvolgimento intimo. La verità quindi è che Carlo quella famiglia non l'ha mai voluta, è capitata, l'ha fatta capitare. Ma ad un certo punto quella famiglia perfetta è arrivata ad intralciarlo nei suoi piani. Carlo infatti racconta dell'ossessione che ha iniziato a provare per la sua collega, perché qui si parla di ossessione, con queste parole. Ho conosciuto Maria, la mia collega, a marzo. Condivideva la mia passione per la moto. Abbiamo iniziato a parlare. Andavamo a pranzo assieme e la nostra intesa aumentava. Non abbiamo mai avuto rapporti, in quanto lei aveva una relazione e mi ha detto che non avrebbe mai tradito il partner. Ma io ho creduto che lei fosse il vero amore. Ho iniziato quindi a pensare alla separazione. Avevo visto che ci poteva essere il divorzio veloce. Ho chiesto a due miei colleghi. Uno di loro mi aveva detto di aver dovuto affrontare qualche sacrificio economico e di aver perduto l'affetto dei figli per colpa della sua ex moglie. I suoi amici, quelli da cui è andato a vedere la partita, hanno chiuso i rapporti con Carlo. Dicendogli che l'ha fatta grossa. Come se avesse fatto un guaio. Ma la verità è che Carlo Lissi è un assassino. Durante il processo i giudici sono chiamati a decidere se Carlo ha premeditato il crimine oppure se si è trattato di un raptus incontrollabile. Ma, come vi ho già detto, Carlo ha premeditato tutto con freddezza. E l'ha fatto giorni prima del terribile gesto. Il tribunale quindi prende una decisione. Carlo ha premeditato quel crimine. Inoltre, i suoi chiari tratti narcisistici non intaccano assolutamente la sua capacità di intendere e di volere. Carlo Lissi è condannato all'ergastolo. Questo vuol dire? Fine pena? Mai. Il fine pena mai, a mio parere, se lo merita ancora di più. Quando ho scoperto che in serie di interrogatorio il magistrato gli ha chiesto semplicemente Mi scusi, ma il divorzio non era una via percorribile? E Carlo ha risposto No, perché con il divorzio i figli restano. Quindi a Carlo un semplice divorzio non basta vuole fare un reset della sua vita. Con un divorzio non sarebbe più stato il Carlo Lissi perfetto e ammirato da tutti. E un reset della sua vita Carlo Lissi, a pensarci bene, l'ha dato. Ora in carcere, a quanto pare, ha studiato e si è laureato in filosofia. In carcere, Carlo è un detenuto modello in linea con la sua vita prima della mattanza educato e rispettoso. Detto questo, ragazzi, questo è il caso di Motta Visconti. Io non ho molto da ripetere perché direi le stesse cose che ho detto nel video dedicato a Chris Watts. A me fa paura una persona con una freddezza così tanto intensa. Ma soprattutto, nel caso di Chris Watts, l'uomo non è che si sia accontentato di fidanzarsi con Shannon ossia sua moglie. No, no. Col tempo si è innamorato di un'altra. In questo caso, Carlo fin da subito ha accettato, a mio parere, un matrimonio che non voleva. Carlo ha accettato di sposare una donna che non voleva sposare. Per Chris Watts la situazione è diversa anche se poi l'epilogo è tragico ed è lo stesso, purtroppo. Detto questo, ragazzi, ho finito di sprocchiare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro... Detto questo, ragazzi, ho finito di sprocchiare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao, ragazze. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie a tutti.